Parigi le cimici letto sono infestati da Parigi. Con video virali sui social network di luoghi molto popolari non solo dalle persone ma ora anche. Piccoli parassiti. Il comune ha chiesto un piano di emergenza nazionale. Il governo deve riunire urgentemente tutti gli attori interessati implementa un piano d'azione al. Culmine di questo flagello in un momento in cui tutta la Francia si prepara ad ospitare i giochi.